Lo spazio e il tempo sono flessibili, relativi per dirla con Einstein, e l'universo è elastico. Possiamo immaginarlo proprio così. Un telo elastico la cui trama è fatta dall'intreccio delle tre dimensioni dello spazio con la dimensione del tempo. Quattro dimensioni quindi, dipendenti l'una dall'altra. Una cosa inimmaginabile per noi che muovendoci a bassa velocità, percepiamo il tempo come un flusso, assoluto e indipendente da tutto. Ma visto che quattro dimensioni sono troppe da disegnare e anche da immaginare, torniamo al nostro gigantesco tappeto di gomma, dimenticandoci per un attimo del tempo. I corpi celesti con la loro massa fanno piegare il tappeto. Più grande è la massa e più lo spazio è incurvato e deformato. La Terra, ad esempio, ruota intorno al Sole perché questo, essendo molto massiccio, provoca una grande deformazione dello spazio circostante. Se provassimo a muoverci in linea retta intorno a questo affossamento, ci troveremmo in pratica a girare in tondo. Le orbite funzionano così. Non esiste una vera e propria forza che trattiene i pianeti intorno al Sole. C'è solo la curvatura dello spazio. Per essere più precisi, se recuperiamo il tempo, la nostra quarta dimensione, quello che si incurva per la massa dei corpi è proprio lo spazio-tempo a quattro dimensioni. Le onde gravitazionali, poi, non sono altro che le vibrazioni di questo nostro telo elastico. Sono prodotte ogni qual volta le masse accelerano, modificando così la deformazione dello spazio-tempo. Qualunque oggetto dotato di massa o energia può dare luogo a onde gravitazionali. Anche noi, se iniziamo a ballare l'uno intorno all'altro, provochiamo delle increspature nel tessuto dello spazio-tempo. Ma sono incredibilmente piccole, impercettibili. Occorrono oggetti molto, molto massicci, che si muovono molto, molto velocemente, per produrre increspature abbastanza grandi da essere rivelate. Come i buchi neri, ad esempio, che nascono quando stelle di grande massa collassano su se stesse, perché le reazioni che le alimentavano si sono esaurite. Nei buchi neri la concentrazione della massa è tale da produrre una deformazione incredibile dello spazio-tempo. E quando un buco nero accelera, le vibrazioni prodotte possono essere ascoltate qui, sulla Terra, grazie alle sensibilissime antenne gravitazionali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.